Nel video di oggi vediamo un parametro molto importante nello studio di un titolo finanziario ovvero il return on equity o anche detto RUE. Sono sicuro che molti di voi già conoscano questo parametro e lo utilizzino, ma sono sicuro anche che non tutti ne sfruttino appieno la potenzialità. Infatti il return on equity non va a valutare semplicemente la redditività finanziaria del vostro investimento, ma riesce anche a valutare quella che è l'efficienza operativa dell'azienda. Vediamo insieme come utilizzarlo al meglio. Ciao, io sono Domenico e questo è Vivere di Dividendi, il progetto di educazione finanziaria e di investimenti che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi di vita. Se l'argomento finanza e obiettivi personali ti interessa, iscriviti subito e attiva la campanella. E non dimenticarti alla fine del video di cliccare mi piace per supportare il canale. Per capire al meglio come funziona il return on equity, dobbiamo sapere come è strutturato un bilancio. È abbastanza semplice. Infatti un bilancio è diviso in tre parti fondamentali. La parte di sinistra abbiamo tutte le attività di un'azienda, i suoi asset, che quindi possono essere per esempio gli impianti produttivi o anche le sedi fisiche dell'azienda. Ma allo stesso tempo abbiamo anche tutti i bini immateriali, quindi per esempio i brevetti. Mentre nella parte destra abbiamo i debiti e le equity, ovvero dove abbiamo preso tutti i soldi che ci sono serviti per strutturare gli asset. I debiti sono ovviamente la parte di soldi che abbiamo preso in prestito da un ente, tipo una banca. Mentre le equity sono tutti i soldi che hanno dato gli investitori. Quindi noi, quando compriamo un titolo di una società, un'azione, semplicemente stiamo comprando una parte di equity. Quindi stiamo diventando azionisti di quella società. Per capire meglio queste tre parti? Facciamo un esempio molto semplice. Poniamo volessimo comprare un'attività commerciale, per esempio un bar. Il costo totale del bar è 50.000 euro. Di questi 50.000 euro 20.000 ne abbiamo di disponibilità personali, quindi di soldi nostri. Mentre 30.000 dobbiamo prenderli in prestito dalla banca. In questo caso abbiamo i 50.000 euro rappresentano i nostri asset. I 30.000 euro rappresentano i nostri debiti, mentre i 20.000 euro rappresentano le nostre equiti. Il ritorno in equiti va a calcolare quella che è l'efficienza del nostro investimento e lo fa tramite il rapporto tra utili ed equiti. Ovvero, tornando all'esempio del nostro bar, se durante l'anno il nostro bar ha generato per esempio 5.000 euro di utili, abbiamo che il rapporto 5.000 diviso i 20.000 che abbiamo investito noi di tasca nostra, ci restituiranno il valore del RUE, quindi il ritorno in equiti, in questo caso 25%, che è un ottimo valore di RUE. In definitiva, a parità di capitale investito, tanto più alti saranno gli utili che riusciamo a generare, tanta più alta sarà l'efficienza del nostro investimento, quindi la nostra redditività. Facciamo due esempi reali. Prendiamo in considerazione due aziende, General Motor e Google. General Motor nel 2018 ha generato 8 miliardi di utili con 33 miliardi di equiti, quindi 8 diviso 33 abbiamo un RUE, un ritorno in equiti pari al 24% circa. Google invece ha generato 30 miliardi di utili ma utilizzando 157 miliardi di equiti, quindi con un RUE pari al 19%, inferiore a quello di General Motor. Quindi ne possiamo dedurre che investire in General Motor è più redditivo rispetto ad investire in Google. Infatti per ogni euro investito in General Motor riusciamo a ricavare 24 centesimi di utili, mentre per ogni euro investito in Google ricaveremo solo 19 centesimi di utili. Gli utili però non sono stati generati utilizzando solamente i soldi da noi investiti, quindi la parte di equiti, ma sono stati generati utilizzando tutti gli asset a disposizione dell'azienda. Per capirlo torniamo al nostro esempio del bar. I 5 mila euro di utili non sono stati generati solamente dai 20 mila euro che abbiamo utilizzato noi come investimento, ma in realtà sono stati generati dai 50 mila euro che è stato il costo del bar, perché è il bar nella sua totalità che ha generato gli utili. Andiamo a vedere quindi qual è il totale degli asset impiegati da General Motor e Google. Il totale in questo caso è quasi uguale, stiamo parlando di 230 miliardi in entrambi i casi. Quindi investendo la stessa totalità di soldi, 230 miliardi, Google è riuscito a generare 30 miliardi, mentre General Motor è riuscito a generare 8 miliardi, molti meno. Questo rapporto tra gli utili e il totale degli asset utilizzati viene chiamato Return on Asset o RUA. Ma a questo punto io sono un po' confuso. Abbiamo detto poco fa che General Motor era un investimento più profittevole, perché a parità di soldi investiti riuscivamo a generare più utili. Ma adesso invece abbiamo visto che in realtà è Google ad essere un'azienda più efficiente, poiché a parità del totale dell'investito riesce a generare molti più utili di General Motor. Ma come mai accade questo? In realtà entrambe le situazioni sono vive. Quindi è vero il fatto che General Motor è un investimento più profittevole, proprio perché a parità di soldi investiti riusciamo a generare più utili. Ma è vero anche che Google è un'azienda più efficiente, perché a parità del totale investito riesce a generare molti più utili. Sono vere entrambe perché stiamo parlando di due cose diverse. Una riguarda la redditività dell'investimento e l'altra riguarda l'efficienza dell'azienda. Ma quindi come fa General Motor ad essere un investimento più profittevole rispetto a Google che invece è un'azienda più efficiente? Bene, il trucco risiede nella leva finanziaria, ovvero l'utilizzo del debito. Se infatti andiamo a controllare quelli che sono gli stati patrimoniali delle due aziende, ci renderemo conto che nel bilancio di General Motor troveremo che gli asset sono finanziati per i due terzi da debito, mentre per un terzo da equiti. Per quanto riguarda Google invece abbiamo una situazione diametralmente opposta, ovvero quasi il 100% degli asset è finanziato solamente dalle equiti. In definitiva quindi l'utilizzo del debito funziona da moltiplicatore per il nostro ritorno in equiti. Infatti utilizzando sempre lo stesso capitale investito, quindi sempre le stesse equiti, se abbiamo più debito vuol dire che il totale dei nostri asset sarà maggiore. Con un totale di asset maggiore possiamo avere degli utili più alti e quindi un rapporto tra utili e equiti più alto. Per questo il debito in questo caso funziona dall'IVA finanziaria e aumenta il valore del nostro ROE ed è per questo che General Motor ha un ROE più alto di Google nonostante sia un'azienda meno efficiente. Adesso sappiamo come funziona il ROE e quali sono le informazioni che possiamo ottenere da questo parametro e soprattutto come sono influenzate. Ma questa è la forma più semplice del ROE. Infatti il ritorno in equiti può darci molte più informazioni su un'azienda. Non ci parla soltanto dell'aspetto finanziario ma ci può anche parlare dell'aspetto operativo, quindi della sua efficienza operativa e questo lo fa nella forma del ritorno in equiti di DuPont. Utilizziamo un piccolo trucchetto matematico, ovvero moltiplichiamo e dividiamo per la stessa quantità utilizzando gli asset e il fatturato. In questo caso non stiamo cambiando il totale del ROE ma semplicemente gli stiamo dando una forma diversa, un nuovo vestito. Infatti rimescolando le carte vediamo che il ROE è formato da tre parametri, quindi gli utili diviso il fatturato, il fatturato diviso gli asset e gli asset diviso le equiti. Questi sono tre parametri fondamentali, ovvero il primo utili diviso fatturato non è altro che il nostro margine di profitto che lo andiamo a controllare ogni volta che andiamo a controllare il conto economico di un'azienda e ci dà appunto l'efficienza operativa dell'azienda. Il fatturato diviso gli asset invece viene chiamato asset turnover e va a valutare quello che è l'impiego efficiente di tutte le risorse dell'azienda, quindi di tutti gli asset, di come noi stiamo impiegando tutti i soldi dell'azienda. Mentre l'ultimo parametro, gli asset diviso le equiti, ci dà la leva finanziaria dell'azienda. Quindi ci restituisce quell'importantissima informazione ovvero quanta parte degli asset è finanziata tramite le equiti e quanta parte degli asset è finanziata tramite il debito. Ci rendiamo conto quindi che se avessimo nell'azienda sia una variazione di efficienza sull'operatività, sia una variazione di efficienza sull'utilizzo di tutti i capitali, queste informazioni trovano un riscontro nel RUE, quindi fanno variare il valore del RUE. Allo stesso tempo se abbiamo una variazione su quella che è la leva finanziaria, anche qui abbiamo una variazione di RUE. Abbiamo visto prima che aumentando il debito normalmente abbiamo un aumento del RUE, ma attenzione possiamo avere anche il contrario, ovvero una diminuzione, poiché l'aumento degli interessi da pagare per ripagare il debito ci dà una diminuzione degli utili dell'azienda e quindi una diminuzione degli utili ci restituisce un RUE più basso. Quindi il debito inficia sia nel verso positivo sia in quello negativo. In definitiva possiamo dire che l'analisi del RUE è molto fondamentale perché appunto abbiamo visto che ci dà informazioni sia sull'aspetto operativo sia sull'aspetto finanziario, ma come tutti i parametri non può essere considerato a sé stante e soprattutto non possiamo vederlo in maniera puntuale, cioè solo il valore oggi, ma dobbiamo andare a vedere anche quello che è lo storico e quali sono i dati alla base del RUE. È molto importante fare questa analisi e lo vediamo con un caso molto pratico, ovvero quello che è successo proprio a General Motors nel 1992. In quel periodo ci fu un grande scandalo, alcuni di voi forse lo ricorderanno, e ha riguardato l'errore contabile che è stato fatto da General Motors nel considerare, nel calcolare il trattamento pensionistico dei propri dipendenti e questo aveva inficiato l'ammontare dei debiti della società. Quindi andando a cambiare quello che era il totale dei debiti della società, sono andati a cambiare in maniera repentina quello che era l'iva finanziaria dell'azienda ed il RUE ne ha risentito, ovvero è passato da circa il 15% a circa il 40%. Quindi se avessimo considerato solo il valore del RUE dopo questo errore finanziario, questo errore contabile scusate, avremmo visto un RUE al 40%, avremmo potuto pensare che si trattasse di un investimento molto profittevole. Invece questa non era la realtà, infatti andando a considerare quella che è la storia pregressa del parametro, ci saremmo resi conto che qualcosa non quadrava e che sarebbe stato opportuno andare a controllare più nel dettaglio questi valori e avremmo scoperto quello che è stato l'errore contabile della società. In definitiva, possiamo e dobbiamo utilizzare il RUE, il return on equity, quando stiamo valutando su quale azienda investire. Abbiamo visto che è un parametro molto importante perché ci parla sia dell'aspetto operativo sia dell'aspetto finanziario, ma come tutti i parametri ha i suoi limiti e quindi non dobbiamo utilizzare esclusivamente questo parametro, dobbiamo controllare quella che è la sua evoluzione nel tempo e dobbiamo controllare quelli che sono i dati alla base di questo parametro, quindi l'andamento dei debiti, l'andamento degli asset e delle equiti. Se questo video ti è stato di aiuto non dimenticare di cliccare adesso mi piace per supportare il canale, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato, ma soprattutto vinci a trovare anche sul nostro profilo facebook, troverai il link qui sotto in descrizione per avere un'interazione molto più diretta e scambiarci i nostri pareri e consigli in merito agli investimenti. Troverai anche qui sotto sempre linkato l'articolo completo che potrai trovare sul nostro blog Vivere di Dividendi. Con questo vi saluto e buon dividendo a tutti!